Guido Guidesi, lei dice che il governo pensa soltanto all'assistenzialismo per i sindaci e soprattutto per Roma Capitale, in questo Salva Roma, perché? No, il governo pensa solo ed esclusivamente all'assistenzialismo romano del comune di Roma e oggi scopriamo anche che pensa anche ad attuare alcune norme che sono utili al comune di Napoli, che come è noto è un altro comune in dissesto di bilancio. Quello che noi contestiamo al governo è che il Partito Democratico si è rappresentato alle scorse elezioni politiche e ha inserito nel programma elettorale sia nel programma legislativo sia del governo Letta che del governo Renzi una revisione del patto di stabilità a favore di tutti i comuni, Invece non è una revisione del patto di stabilità a favore di tutti i comuni, ma sono due marchette, una al comune di Roma e una al comune di Napoli, amministrati da amministratori incapaci e irresponsabili in tutti questi anni, che hanno creato forti buchi di bilancio e adesso ci tocca pagare a tutti. La Lega in aula darà battaglia. Quali emendamenti avete presentato? Noi abbiamo presentato tanti emendamenti, principalmente quelli che vincolano, innanzitutto che sopprimono ovviamente le parti che riguardano il comune di Napoli e il comune di Roma, poi abbiamo presentato emendamenti che determinano una strada molto più stretta rispetto ai piani di risanamento dei due comuni, e dall'altra parte abbiamo presentato emendamenti che sono utili a rivedere il patto di stabilità per tutti gli enti locali, per tutti i comuni, ivi compresi, soprattutto quelli virtuosi, perché noi pensiamo che questo decreto sia assolutamente ingiusto, sia un'ingiustizia nei confronti di tutti quei sindaci che hanno sempre amministrato responsabilmente rispettando le regole.